Benvenuti alle tre della settimana, ovvero a un brevissimo riepilogo delle tre notizie che a nostro giudizio hanno interessato maggiormente Scandici e il suo territorio negli ultimi sette giorni, iniziando, come è inevitabile che sia, dalla cornice fin troppo ampia della pandemia e della gestione del contagio e della gestione delle conseguenze del contagio. Ricordando che una settimana fa è stato aperto all'ospedale Nuovo San Giovanni di Dio di Torregalli un reparto Covid con 20 posti letto, la metà dei quali, peraltro, fu subito occupata. Dunque, esistono percorsi dedicati, ovviamente, per evitare che al momento dell'ingresso nel nosocomio possano verificarsi ulteriori casi di contagio che, se poi fossero a danno di chi viene ricoverato in quel momento, sono intuibili le conseguenze. E va anche ricordato che, da due giorni a questa parte, il presidente della giunta regionale toscana, Eugenio Gianni, ha emesso un'ordinanza che vieta le visite ai degenti negli ospedali, se non in casi gravissimi. Dunque, una prospettiva, quella delle prossime settimane, per quanto riguarda l'ospedale di Torregalli, che si allinea, purtroppo, alla tendenza di questi ultimissimi periodi, che vede gli ospedali diventare sempre più focalizzati alla gestione degli effetti del contagio. Questo potrebbe anche andare a penalizzare quella che è la normale attività degli ospedali. Comunque, l'azienda sanitaria ha fatto sapere che la volontà di mantenere l'attività programmata degli interventi chirurgici, delle operazioni in senso lato, che comunque sono effettuate all'ospedale di Torregalli, così come negli altri ospedali. La volontà, appunto, di mantenere l'attività programmata è forte. E noi ce lo auguriamo, anche perché ricordiamo, fra l'altro, che, per esempio, ieri, nell'ultimo bollettino, Scandici, ha avuto 34 nuovi positivi e si è collocata, in questa triste graduatoria, al secondo posto, dopo il capoluogo toscano, per quanto riguarda la zona di pertinenza dell'azienda sanitaria della Toscana Centro. Parliamo adesso, cambiando decisamente argomento, di una riqualificazione che, insomma, era necessaria, possiamo dire, ovvero quella del Palazzo Comunale di Scandici, che finalmente potrà essere oggetto di una ristrutturazione, sia estetica, potremmo dire, nel senso comunque strutturale, sia di un rinnovamento profondo a livello di efficientamento energetico. Per quanto riguarda la ristrutturazione interna, si tratta di modificare, di rinnovare proprio gli spazi, anche gli spazi di lavoro, a beneficio dei tanti dipendenti del Comune, ma rinnovare l'impianto di climatizzazione, l'impianto di illuminazione, mettendo tanti elementi a LED e rinnovare gli infissi che risalgono ancora all'epoca della costruzione del Palazzo Comunale e quindi verranno sostituite le attuali vetrate, che hanno dispersione termica, con vetrate ad alto efficientamento energetico. E poi, per quanto riguarda la parte esterna del municipio, sarà rinnovato, rifatto, rimesso a nuovo l'involucro in cemento armato. I lavori sono previsti durare un anno e il costo è di più di un milione e mezzo di euro. Voltiamo decisamente pagina e sì, concludiamo per quanto possibile, certo, con una nota decisamente più leggera, parlando però sempre di Covid. Parliamo quindi di sport, parliamo dello scandicci calcio, che nelle settimane passate è stato in effetti protagonista di una striscia di rinvii di partite in programma nel campionato di Serie D, il Girone E, in cui milita la squadra di Claudio Davitti. Ecco, è stato davvero protagonista di una lunghissima serie di rinvii. Praticamente su cinque partite in calendario ne sono state rinviate quattro allo scandicci. Perché? Vuoi perché la squadra che avrebbe dovuto incontrare non ha potuto giocare perché magari un giocatore era risultato positivo o un familiare del giocatore era risultato positivo? O perché questo sospetto era proprio nelle file dei blues di scandicci? Quindi, per una responsabilità, si fa per dire, fra virgolette, o dello scandicci stesso o della squadra che avrebbe dovuto incontrare la domenica successiva, ecco, su cinque abbiamo detto giornate di campionato, quattro sono state rinviate. Bene, questo effettivamente ha fatto domandare se fosse il caso di proseguire un campionato che alla fine si dimostra zoppo. Comunque sia, nel DPCM della scorsa notte, di due notti fa, il Premier Conte ha stabilito che la Serie D va avanti perché è considerata di interesse nazionale, quindi prosegue. A questo punto noi possiamo solo augurarci che Claudio Davitti, da ora in poi, possa sperare, possa fare affidamento su una serie di partite che, così come sono, programmate e preparate. E questo è il punto, perché comunque durante la settimana una squadra si prepara per la gara che dovrà affrontare. Deve mettere a posto le varie tecniche, tattiche e strategie miratamente all'avversario da incontrare. Quindi, riteniamo che non sia facile per un tecnico dover lavorare durante la settimana in previsione di un certo tipo di partita e poi vedersela quasi regolarmente rinviare. Noi ci fermiamo qua. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima, alle tre della settimana.